alla ricerca dell'anima domande risposte e curiosità sul vivere e sulle rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti di e con fabio giua e giampaolo del bianco ciao a tutti da fabio giua e benvenuti a questa nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima spesso diamo le responsabilità delle scelte comuni di una società a poche persone magari con posizioni di potere all'interno di un sistema e allo stesso modo spesso non ci rendiamo conto che vi sono delle persone che attraverso lavori di ricerca molto importanti riescono a carpire un principio di cambiamento per renderlo poi evidente alla collettività e quindi al nostro inconscio collettivo in questa puntata parleremo proprio di ricerca in ambito psicosociale insieme al professor dino giovannini ricercatore e professore di grande esperienza nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al nostro gruppo facebook ai nostri canali telegram e youtube ed anzi fatemi spendere due parole in più proprio per il canale youtube perché da oggi per chi ci sta seguendo lì o per chi ci vorrà seguire lì o anche per chi ci segue su altri canali ebbene da oggi è possibile abbonarsi al nostro canale youtube l'abbonamento è una forma di micro finanziamento per un canale che vi dà la possibilità di accedere a funzioni e contenuti cui non sarebbe possibile accedere con la semplice iscrizione al canale quindi cliccate su abbonati per scoprire quali sono i vantaggi riservati agli abbonati oppure semplicemente se vi fa piacere sostenere il nostro progetto con una piccolissima cifra mensile e noi per questo vi ringraziamo già moltissimo sin d'ora ma adesso vi lascio alla puntata di oggi ciao giampaolo ben trovato ciao fabio come stai oggi molto bene molto contento dell'ospite che stiamo per introdurre esatto anche perché quella di oggi è una di quelle puntate in cui non si sa bene da dove iniziare nel presentare l'ospite perché per quante cose ci sarebbero da dire per quante sono le attività svolte nella nella sua vita intanto partiamo col dire che il nostro ospite di oggi è laureato in pedagogia specializzato in psicopedagogia è docente al contratto di psicoterapia nel corso di specializzazione in psichiatria scuola di medicina e chirurgia alma mater studiorum dell'università di bologna è stato professore ordinario di psicologia sociale dal 94 al 2015 e ha svolto attività di docenza e ricerca nelle università di bologna trento modena reggio miglia oltre a compiere numerosi soggiorni studio in prestigiosissime università in tutto il mondo quindi potremmo dire che sia un accademico con la maiuscola il professor dino giovannini ciao dino benvenuto buongiorno a voi e grazie per questa possibilità opportunità che mi avete offerto grazie davvero a te senti io ho detto che sei un accademico con la maiuscola perché mi piaceva questa definizione ma l'ho detto perché effettivamente la tua è stata una vera scelta di vita da subito no cioè io so che hai rinunciato in passato anche a ruoli molto importanti e prestigiosi per diciamo così il bene della ricerca è vero sì è vero devo dire che in genere sono una persona dinamica sono sempre stato molto dinamico e mi ha sempre interessato fare tante cose a volte anche troppe tanto per fare un esempio ero così anche da bambino alle scuole elementari finivo sempre abbastanza presto quello che dovevo fare in classe tanto per dare un'idea e ricordo che la mia maestra ricordo ben la maestra strada siccome poi io dopo andava aiutare i miei compagni e allora non è che andava tanto bene andare a dare una mano aiutare quelli che erano ancora non avevano finito i compiti così mi mandava a portare via delle circolari andavo in segreteria di aiutare il segretario della scuola e così via era solo un esempio per dire che di cose ne ho fatte tante e ho cambiato anche diverse direzioni nel senso di rifiutare diversi lavori fissi come una volta cioè il posto fisso che una volta era molto ambito e niente quindi come dire ci sono andato anche la cosa che mi è mancata molto è avere fatto soggiorni più prolungati negli stati uniti e lì c'è stato un po io ho come seconda lingua la mia seconda lingua il francese perché ai miei tempi perché io sono sono avanti con gli anni quindi c'erano so su cinque sezioni ce ne erano le medie quattro di francese una di inglese e quindi si faceva francese sono molto contento perché in questo modo non solo ho fatto soggiorni ho lavorato anche a parigi in laboratori per fare ricerche con colleghi parigini ma ho anche conosciuto e scoperto in maniera approfondita tutta la cultura francese la letteratura e tutto quello che riguarda come dire un ambito che adesso secondo me è abbastanza ridotto quanto agli apprendimenti e alla dominanza è passata all'inglese quindi si va prevalentemente in ambiti o stati anglosassoni quindi di lingua inglese che altro posso dirvi dunque allora io volevo fare inizialmente una cosa che volevo fare era il giornalista perché scriveva abbastanza bene gli dicevano che ero bravo a scrivere poi l'altra soluzione era fare il medico ho fatto la laurea in perché mia sorella che ha due anni meno di me avrebbe fatto avrebbe fatto le magistrali quindi in famiglia si dice no ma allora va bene cioè fai le magistrali anche te in maniera che così fate lo stesso corso di studi parliamo degli anni parliamo degli anni all'inizio di 60 quindi no forse un po' dopo era l'anno delle delle olimpiadi a roma che abbiamo cominciato e io e mia sorella e quindi ma la mia passione poi ho vinci una borsa di studio a roma di tre mesi e ministero dell'interno e lì finì in una biblioteca che aveva quasi tutti i testi e libri in lingua ma era fornitissima di testi di psicologia cosa che allora parliamo psicologia era una roba che in italia la disciplina ancora agli esordi e lì mi è nata la passione per la psicologia per cui quando ho fatto il corso di laurea in pedagogia e ci ho messo tutti gli esami possibili immaginabili che c'erano in ateneo fuori facoltà perché poi volevo andare avanti su quella strada è una scelta che come dire mi ha mi ritengo fortunato di avere fatto quella scelta e anche di avere fatto quello che ho fatto io mi ritengo una persona fortunata perché se penso a parte i confronti con persone molto meno fortunate e penalizzate dalla vita dall'esperienza di vita credo che la cosa bella che fa star bene è fare una cosa che piace e io non ho mai fatto una cosa che non mi piacesse cioè penso che una persona può tentare di prendere altre strade e poi con l'impegno la volontà e anche come dire la costanza si può si può fare i risultati si possono ottenere e senti tu hai appunto come hai detto ho fatto soggiorni studio in varie parti del mondo e avevo una curiosità da chiedersi riguardo alla ricerca come cambia l'ambiente diciamo della ricerca all'estero rispetto all'italia e come è cambiato nel tempo questo questo ambiente allora teniamo conto tanto per collocare le esperienze che ho fatto io mi sono laureato nel 70 1970 e specializzato nel 73 quindi era un periodo in cui non c'era ancora erano appena partiti a roma padova le lauree psicologia e i dottorati erano ancora da venire in italia per cui si andava negli anni 70 dovevi andare si doveva andare all'estero inizialmente con lì c'era il nostro laboratorio all'istituto io sono partito e ho fatto esperienza all'istituto di medicina era un istituto non ancora un dipartimento perché non c'erano dipartimenti della facoltà di medicina dell'università di bologna e inizialmente la sperimentazione era in laboratorio erano laboratori tutto sommato abbastanza abbastanza forniti insonorizzati eccetera ma andando poi in giro e ho scoperto che le cose erano completamente diverse perché per esempio quando avevo messo in piedi una ricerca per riuscire ad utilizzare i cosiddetti giudici che decodificano tutta una serie lavoravamo sulle emozioni allora sull'espressione e riconoscimento delle emozioni era una ricerca internazionale e all'estero avevano tutta una serie di supporti a livello di computer di analisi dei dati che noi non esisteva non c'erano quindi come dire a parte il supporto anche a livello diciamo burocratico per cui una segretaria personale i miei i miei i miei maestri diciamo sì ce l'aveva il professor canestari che ha fondato la psicologia a bologna era cos'era negli anni sessanta all'inizio degli anni sessanta avevano ovviamente un segretario del segretario ma non esistevano supporti per cui bisognava fare tutto personalmente questo cosa faceva da una parte era un handicap ma dall'altra tutto sommato ti stimolava come dire ad affrontare una realtà ea come fare quello che io credo che sia stimolante fare anche quello che in altri casi veniva fatto da altri parlo a livello più di supporto sia tecnico ecco i tecnici per esempio a utilizzare dei tecnici e anche a livello di segreteria bisogna dire che la cosa che io mi ritengo fortunato l'ho detto prima perché nel 1970 il io mi sono lavorato come ho detto col professor canestari ma mi sono sono entrato nel gruppo che stava formando il professor palmonari augusto palmonari e ed era l'inizio della di mettere in piedi qualcosa che riguardava un approccio sociale allo studio della psicologia e sono entrato inizialmente fra i primi nel in questo gruppo di psicologi di psicologi che lavoravano nell'ottica della psicologia sociale e che poi è diventata una scuola la scuola bolognese sono tre o quattro scuole in italia di psicologia sociale e questa bolognese si è differenziata in particolare per due o tre aspetti che erano uno tenere tenere conto che la realtà non è nel laboratorio nella teoria ma è il l'ambiente il contesto reale quindi lavorare tenere conto cercare di produrre in base alle conoscenze che si hanno cambiamenti nei contesti reali che è poi quello che mi ha portato ed è un aspetto che può sembrare ora ove diciamo come certo che bisogna lavorare nei contesti reali non è esattamente così perché alla fine della mia carriera mi è stato riconosciuto ma lo sapevo già che si può fare ricerca scientifica al a livello molto alto quindi con la possibilità di pubblicare sei journal di a livello internazionale dove non è facile pubblicare anche facendo della ricerca in contesti reali e quindi riuscendo a controllare tutta una serie di variabili che in genere si è sempre dato per scontato che non sono controllabili perché può succedere che la manipolazione o una serie di altri effetti entrino nel merito di questa della procedura della procedura e quindi nel vadano in qualche modo a inficiare il risultato che viene raccolto un esempio in questo caso lo dico perché abbiamo fatto ricerche molto belle poco conosciute a livello come dire a livelli di massa diciamo di massa bravo non volevo dire il termine massa ma a livello di generalizzato è una ricerca fatta sugli effetti che ha la lettura dei libri di harry potter allora nessuno aveva pensato a fare una ricerca di questo tipo e noi l'abbiamo fatta sia a modena e reggio emilia che è l'unica università su due sedi l'abbiamo fatta a verona con dei colleghi di verona e anche a greenwich all'università di greenwich e siamo usciti a dimostrare che la lettura dei libri di harry potter riduce il pregiudizio devo dire che a partire da io ho sempre lavorato su comunicazione relazioni fra gruppi quindi conflitti o comunque relazioni fra gruppi e e poi su atteggiamenti e riduzione del pregiudizio riduzione del pregiudizio nell'ottica di come dire valutare come si può cambiare il dato di realtà rispetto alla discriminazione messa in atto nei confronti di gruppi svantaggiati che possono essere immigrati persone con handicap persone quelli che vengono cosiddetti i cosiddetti gruppi immarginati o svantaggiati bene allora la questa ricerca ha avuto un eco una risonanza incredibile nel senso che è andata su tutte le riviste new york times eccetera con richieste di interviste eccetera tant'è che l'editore dopo credo neanche un mese la messa la mise perché è una ricerca degli anni fa forse sì del 14 mi pare di ricerche abbiamo fatte tante per cui perdo un po il controllo degli anni in cui le abbiamo fatte e l'aveva messa free nel senso che chiunque poteva scaricarla e tutt'oggi su uno lancia il uno dei nomi dei componenti del piano diciamo di chi ha di chi ha pubblicato l'articolo ma basta anche mettere giovannini harry potter salta fuori la ricerca ed è interessante la cosa che va detta è che non è sufficiente leggere i libri che già questo riduce il pregiudizio perché c'è tutto il problema della della discriminazione nei confronti di quelli che non sono dei maghetti cioè di quelli di non bani uno sangue del bravo benissimo ma si è dimostrato che lavorando in classe controllando ovviamente chi non aveva mai letto i libri facendo e chi invece li aveva letti quindi togliendoli quindi facendo leggere libri di harry potter discutendoli in classe con gli insegnanti la riduzione del pregiudizio è indiscutibile questo era un esempio per per dire che come dire la possibilità di fare ricerca non in laboratorio è ormai un dato che viene non dico copiato cioè viene misfinato da chi ha scoperto per cui questo lo ritengo così era una cosa che era partita per scherzo ma molte cose succede che si fanno senza crederci cioè senza sperarci più di tanto poi invece salta fuori qualcosa di eclatante davvero interessante questa ricerca la farò vedere a mia figlia che è un appassionata di harry potter quindi sicuramente sarà interessata ma in effetti pensavo effettivamente in ambito psicologico psicopedagogico eccetera credo almeno che sia effettivamente importante svolgere ricerche più in ambito reale che non in altre discipline o sbaglio no certo bisogna è certo perché il problema è la possibilità di avere accesso alla scuola per esempio se vogliamo fare delle ricerche con i ragazzi o gli studenti la quindi l'ingresso l'accesso il fatto di trovare insegnanti che sono disponibili a lavorarci a collaborare a perché che non come dire che non portino a difesa del fatto che non non posso non possono farlo perché c'è un programma da svolgere perché ci sono tante ragioni e quindi ma il vantaggio è un vantaggio è molto rilevante per esempio un altro libro ma adesso a me non piace lo dico solo perché mi hai un po coinvolto però non mi piace parlare più di tanto di queste cose l'abbiamo fatta avrebbe una bella una bella ricerca molto bella che è esitata in un volume è lavorare insieme per dimostrare che nelle aziende cooperative siamo a reggio emilia quindi reggio emilia io sono un imolese sostengo che la cooperazione nasce a patria a imola i reggiari dicono no sono stati noi primi certo comunque molto bene per la cooperazione e che ci sia che ci sia questa diatriba su chi l'ha l'ha iniziata per primo e abbiamo fatto una ricerca su cosa vuol dire cosa significa lavorare in una cooperative in cooperative rispetto a lavorare in aziende non cooperative ed è emerso in maniera molto evidente che lavorare che la relazione e la modalità diciamo di rapportarsi e di lavorare insieme a persone immigrate non ha confronti rispetto al lavoro fra cooperative fra aziende cooperative e aziende non cooperative e per dire quindi che gli ambienti reali se ovviamente bisogna avere anche il supporto un po di finanziamento per fare ricerca e in questo caso è comunque possibile molto interessante la storia è produrre un cambiamento perché devo dire che scusate che parallelamente io sempre svolto anche un'altra un'altra vita professionale o lavorativa che è quella di avere cercato di fare formazione e fuori dall'università ovviamente quando si è in università non si può dare molto risalto a questa cosa perché sennò soprattutto quando non si è a un certo livello come titolo oppure come posizione meglio come ruolo e posizione sembra che uno voglia trascurare la ricerca io ho sempre dato priorità assolutamente sono sempre stato retribuito dall'università e quindi fuori discussione il fatto però siccome le ore sono tante tolte quelle del sonno si può lavorare fare tante cose quindi sia per quello che è il divertimento o le cose che si vogliono fare si amano ma anche il lavoro e quindi l'idea di fare formazione era sempre collegata al fatto nato nel per il fatto di essere stato in questo gruppo e scuola di psicologi sociali bolognesi di produrre dei cambiamenti quindi non fare formazione perché guadagni dei soldi e quindi certo se uno va senza farsi pagare sembra che non valga niente quindi non ti prendono neanche in considerazione ma per il fatto di produrre un cambiamento a vantaggio delle persone che lavorano nell'istituzione nelle organizzazioni e anche lì bisogna avere come dire rompere degli schemi per esempio una cosa a cui tengo molto è che io anche nel primo giorno di lezione all'università la cosa che ho sempre detto è stata questa io non vengo a insegnare niente e questo anche quando sono andato e vado ancora ora in maniera molto ridotta però quando faccio interventi di consulenza e formazione io non vengo a insegnare niente credo che un bravo come dire consulente debba fornire tutta una serie di occasioni per produrre un apprendimento in chi dedica del tempo ed è presente quando si fanno queste cose produrre delle delle e quindi tenere conto che la teoria uno se la può leggere se la può guardare può utilizzare le slide che sono state messe a punto ma fuori dal momento o in altro momento da quello in cui si è tutti presenti per come presenti per partecipare agli interventi formativi l'altro aspetto ancora che ha caratterizzato e sono convinto che vada tenuto molto in considerazione è che il gruppo il gruppo di lavoro come strumento sia da privilegiare tutte le volte che è possibile perché l'apprendimento individuale certo funziona in tutta una serie e va benissimo è da utilizzare e guai a pensare che non serva assolutamente ma il lavoro il gruppo come strumento di lavoro dà la possibilità di acquisire tutta una serie di apprendimenti fermo restando che ci deve essere la motivazione anche che possono essere definiti apprendimenti di tipo secondario si lavora per esempio per come dire imparare imparare diventare non avere problemi se non altro ma riuscire a lavorare bene in team ma contemporaneamente si imparano si apprendono tutta una serie di come dire abilità e competenze sulla comunicazione sulla relazione con gli altri e così via questo credo che Giampaolo può benissimo dire molte cose a riguardo di quelle che sono i supporti di consulenza o di in termini di formazione fra utilizzo o del gruppo di lavoro in particolare ecco Giampaolo infatti con te volevo proprio a te volevo proprio chiedere produrre un cambiamento non è forse come dire la base ma anche una sorta di di traguardo in un contesto di coscienza collettiva se vogliamo anche no di evoluzione questo è il motivo per cui ero così contento che il professor Giovannini partecipasse alla nostra trasmissione perché quando noi ci occupiamo di temi psicologici siamo culturalmente abituati a leggerli in chiave fortemente individuale la psicologia è la passione di tutti ma in chiave individuale la psicologia sociale è meno conosciuta ma fondamentale perché impatta su noi esseri umani come atemi sociali noi apparteniamo alla società non possiamo pensare di non farne parte la psicologia è anche la psicologia del contesto e del sistema io penso che questo discorso vada riscoperto e mi pare che gli ultimi accadimenti dalla pandemia in poi lo dimostrino nel senso che abbiamo bisogno proprio di strumenti che si pongano al punto di incontro tra l'individuale e il collettivo nella comunicazione e nell'interazione perché altrimenti la società si infragilisce diventa un contenitore fragile se il contenitore diventa fragile i suoi membri si infragiliscono è come abitare in una casa che sta cedendo prima o poi anche i suoi occupanti ne avranno dei danni quindi io ritengo che avere una visione sociale dei problemi emotivi psicologici oggi è sempre stato fondamentale ma oggi lo è veramente in forma ancora più pregnante credo che formare le persone penso agli insegnanti penso agli educatori penso a tutti i contesti formarli a questo tipo di approccio ecologico direi che tiene conto del fatto che siamo in un ecosistema è fondamentale altrimenti smarriamo perché ho un po' l'impressione e su questo volevo chiedere l'opinione del nostro ospito ho un po' l'impressione che se no si rischi di procedere a tentoni un pochino più e soprattutto che le generazioni più giovani ci vedano procedere a tentoni e ne risultino poi destabilizzate tu che cosa pensi di questo? dunque innanzitutto condivido pienamente le cose che hai detto in maniera perfetta nel senso concettualmente chiarissima io penso che le cose stanno proprio così la pandemia per esempio ha portato moltissimi cambiamenti e come dire aperto delle finestre che non si sarebbero aperte se non avessimo dovuto fronteggiare questa storia del covid allora una cosa per esempio che uno schema che è stato rotto è quello che quando si fa una terapia quindi si aiuta una persona vada fatta in presenza e diciamo che i non ortodossi erano sono sempre stati pochi nel pre-covid nel senso che come si fa a distanza il covid ha fatto scoprire che siccome non si poteva fare diversamente va benissimo anche farlo online rimane il fatto comunque che è una rottura di uno schema ma è come dire frontegge in qualche modo il fatto che in tutta una serie di supporto non si possa fare non si potesse non si possa ancora adesso fare più di tanto in gruppo perché sarà per il fatto della mia esperienza però io quando ero appena negli anni 71 72 con altri anche psichiatri e tutta una serie di qui a bologna di anche di amici che eravamo abbiamo seguito una formazione di gruppo e lì ho scoperto proprio anche il lavoro di gruppo con un con un americano che si chiamava Barry Simmons che aveva un approccio molto gestatico e lì ho scoperto che come dire si può benissimo gestire un gruppo senza andare in dinamica si può benissimo gestire un gruppo facendo un po' sul modello dei gruppi di Kurt Levin che Giampaolo conosce benissimo quando gli Stati Uniti entrarono in guerra e avevano bisogno parlo della seconda guerra mondiale avevano bisogno di fronteggiare tutte le derate alimentari la messa a punto cioè avere delle derate alimentari da poter far prevenire ai militari e ai soldati che erano in Europa e tutta la roba doveva essere scatolata e questo dovendo scatolare devi scatolare vai scatolato solo la parte nobile di un pollo per esempio allora l'esperimento di Levin fu avevano fatto delle conferenze avevano chiamato esperti di comunicazione con le massaie ma non era stato prodotto questo è storico nessun effetto di qualche rilievo Levin, Kurt Levin, suggerì e misi in atto il fatto di prendere qualche massaie esperta e fare un lavoro di gruppo che portò a cambiare l'atteggiamento e quindi poi i comportamenti delle persone che partecipavano a quei gruppi sulla base di queste esperienze e sulla base per quanto mi riguarda del lavoro fatto di gruppo con questo approccio gestatico per un paio d'anni che costava molto fra l'altro perché era un investimento che riguardava in quello che era la mia borsa di studio quasi un quarto che mettevo una volta al mese per fare questa formazione io ho preso atto che è possibile gestire cioè che occorre per gestire i gruppi essere preparati perché altrimenti succede che si possono fare dei pasticci e bisogna comunque mettere come dire essere abbastanza eclettici perché poi si possono utilizzare anche altri modelli e quindi altri modelli teorici oppure anche approcci che favoriscono come dire sempre non solo un supporto, un aiuto ma anche il raggiungimento di obiettivi che in qualche modo il gruppo e i partecipanti si sono dati Tu oggi Dino ti occupi di questo? Fai delle formazioni in merito, vero? Sì, certo. Io faccio, devo dire che le opere, sono uno che è curioso e quando, intanto se qualcuno mi chiede un aiuto io faccio fatica, questo forse è un mio difetto faccio fatica a dire di no perché, non so, sono fatto così sono stato socializzato in famiglia soprattutto a essere sempre supportivi a essere, come dire, presenti a dare una mano a tutti i livelli non solo per quello che riguarda quello di cui stiamo parlando ho fatto anche, meno ora però c'è stato un periodo in cui ho seguito dei casi facendo lo psicoterapeuta nel senso che hanno dato dei risultati che mi hanno colpito fra l'altro una cosa su cui spesso mi interrogo è come fa un bravo psicologo, diciamo sia uno psicoterapeuta oppure un bravo formatore a volte quando si fanno gli interventi si trovano delle soluzioni inattesi, inaspettate cioè ti si apre come la finestra ti si apre come il famoso insight che ti fa trovare sempre che dici parlo nelle psicoterapie individuali e la cosa è molto interessante ma anche pone l'interrogativo di come si riesca perché io non mi considero bravo come voi avete come sono stato presentato all'inizio cioè io sono una persona molto normale anzi penso di essere non proprio bravo bravo sono capace di fare tante cose so tante cose che adesso con la perdita un po' di memoria mi scappano via qualche volta delle robe che ho letto, che ho studiato, eccetera questo per dire che comunque ho continuato e lo faccio la domanda anzi ti ringrazio perché mi sono posto anch'io come rispondere a chi attualmente io sono andato in pensione nel 2015 poi ho continuato a fare sempre nella mia università di Modena e Reggio ho continuato a gestire a fare, a insegnare per contratto psicologia di comunità psicologia di comunità che prima non c'era che ho fatto inserire io per gli educatori in quell'ateneo nel 2011 mi parlo 2012 e l'ho seguita perché non c'era nessuno che fosse all'altezza o che andasse bene non c'era tanta gente perché poi Bologna è Bologna Reggio Emilia ci vuole uno bravo magari che viene da fuori andare a Reggio Emilia senza avere è un carico grosso ottenere un insegnamento a contratto quando si hanno 300, 350, 400 studenti l'ho tenuto e poi l'ho lasciato quando è arrivata la persona la mia allieva che si riteneva che fosse fra l'altro bravissima e poi ho continuato ad andare perché ho scoperto che quando uno va in pensione chiude e non ha più neanche il sito in generale spesso in molti atenei viene tolto dal sito non esiste più proprio una roba aberrante a mio parere perché ci sono persone degnissime bravissime che hanno dato un contributo alla formazione degli studenti al proprio ateneo che meriterebbero di rimanere almeno nel sito e di poter andare anche gratuitamente ovviamente continuare a frequentare il proprio dipartimento e continuare a fare ricerche io per questo titolo che mi è stato poi assegnato posso continuare a andare e quindi continuo a fare con il mio gruppo ancora alcune cose però ritorno a quello che stavo dicendo all'inizio quando mi viene chiesto perché invece continuo a fare delle cose fuori dall'università la mia risposta e non vai in giro perché non vai in giro perché non so non fai quello che volevi fare non hai mai fatto perché la formazione gli interventi sia con gruppi in autofinanziamento c'è gente che paga paga l'intervento sia in contesti organizzati in istituzioni mi piace mi diverto è una cosa che non so mi sembra che mi riesca bene mi riesce meno bene fare una cosa come questa di oggi cioè parlare rispondere o presentare o dire delle cose che mi riguardano questo mi riesce meno bene ne sono consapevole perché la consapevolezza bisogna averla sempre ben presente e non mascherarla e quindi faccio sì faccio interventi e quello di cui mi rammarico è che molte persone nel corso dei decenni sono venute venivano una volta c'era l'ivriting quando si facevano interventi di formazione psicosociale sempre con dei gruppi gruppi di 13-14 persone non di più e poi dopo facevano partecipavano si sono formate si sono poi come dire creati tutti i presupposti e le competenze per fare a loro volta interventi di formazione adesso è più difficile trovare persone che vengano e questo come dire il mio rammarico è che mi sembra di avere è un po' una presunzione lo dico chiaramente però tra l'esperienza gli anni contano l'esperienza conta io non sono uno che ha mai portato ha mai lavorato su pacchetti preconfezionati non esistono il bello è devi fare un intervento capire che cosa serve fare cosa viene chiesto come farlo coinvolgere chi in qualche modo ha il ruolo di committente e tutte queste come dire probabilmente egoistico pensare che poi vanno buttate sono un po' come i libri io delle volte mi sto chiedendo tutti i libri che ho qua e adesso li sto guardando ne ho alle spalle ne ho davanti ne ho in altre parti della mia abitazione e dopo una volta le prendevano le biblioteche e li potevi lasciare adesso le biblioteche buttano via quelli che hanno perché non hanno spazi per contenerli perché gli spazi si restengono e bisogna essere molto pragmatici sono stato direttore scientifico per diversi anni della biblioteca interuniversitaria dell'interuniversità interdipartementale a Reggio Emilia Reggio Emilia tre o quattro dipartimenti una bella biblioteca e la cosa drammatica è che sistematicamente venivano approvate in consiglio l'invio al macero di tutta una serie di libri perché avevano non che fossero adattatissimi ma perché serviva spazio per quelli nuovi quindi come dire niente ma poi può darsi che negli anni io spero di riuscire a stare bene perché questa è una cosa se le cose vanno così io sono grato non saprei bene a chi però sono grato a chi crea le condizioni perché che sia il patrimonio genetico che sia per continuare a fare tutta una serie di cose e soprattutto anche a farle non da solo farle con altri perché il bello è lavorare si lavora in gruppo per fare produrre degli apprendimenti e dei cambiamenti ma bisogna lavorare in gruppo anche per per metterle in atto che è divertente si è molto produttivo ma anche si impara il problema è imparare apprendere sempre in tutti i momenti e abbandonare l'idea io proprio sono convinto che ho ascoltato alcuni dei vostri podcast e quando sento tutta una serie di cose come anche l'ultimo che avete fatto martedì scorso se non mi avete errato mi ha messo in crisi perché ho scoperto un mondo al di là del fatto che ne condivida tutto l'impianto e l'approccio ho scoperto un mondo che conosco quasi niente lo conosco poco lo sempre sì ti informi però l'ho sempre tenuto a margine e questo non va bene perché bisognerebbe sapere più cose possibili non 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 chiudersi ma questo non l'ho mai fatto solo che poi non si può fare tutto assolutamente no e senti tornando al discorso di prima e anche a quello che dicevi adesso adesso sul essere il cambiamento tu sei stato anche membro della commissione senatoriale per l'istituzione della facoltà di scienze della formazione correggimi se sbaglio ecco ma cosa significa essere parte di un progetto che racchiude già in sé una definizione di di miglioramento sociale cioè essere quasi parte della creazione di un progetto di questo genere io ti ringrazio per la domanda perché a volte mi sono chiesto anch'io quando si va a vedere vado a rileggere le cose che sono nel curriculum perché il curriculum si fanno quindi mi sono chiesto io non mi guardate ho fatto questa cosa qua ma io non mi attribuisco dei meriti partiamo ancora prima allora c'era una società italiana di psicologia che era la Sips che aveva dentro metteva membri che e dava poco rilievo più practitioner che non accademici allora io sono sempre stato sono diventato cosiddetto fra virgolette barone e sono contento di esserlo diventato per non fare il barone e non ho mai fatto il barone e non sono un barone perché se voi mi guardate dicevo come Giovannini no benissimo perché l'abbiamo vissuta sulla propria pelle io ho fatto il 68 ho occupato le facoltà ero ero come ho detto mi sono allorato nel 70 quindi ero alla fine del corso allora era un corso quadriennale e ho pagato un po' il prezzo ho imparato tante cose eccetera del del fatto che c'erano i baroni baroni cioè punto erano così bene non si discuteva quello che dicevano per quanto bravi erano dei maestri poi sono diventati anche dei riferimenti stabili per tutto il resto negli anni successivi e quindi decidemmo si decise io ero giovanissimo ero un ricercatore di fare una società un'associazione che fosse come dire più scientifica composta da membri e dando privilegio a quelli che fanno davvero della ricerca non solo in università ma anche fuori e venne ed è nata nel 92 l'associazione italiana di psicologia AIP allora per dire quando parlo di contingenze di vita io sono fra gli otto che andarono dal notario a Roma a firmare la nascita ma quel giorno se non ero andato a quella riunione non sarei finito dentro questo dico che sono stato non è fortunato è che le contingenze ti mettono dentro comunque ho lavorato a fare quella cosa lì così come ho lavorato contro quelli che erano poi i nostri maestri quando a Bologna sostenevano perché Bologna di non fare di aspettare a fare la facoltà di psicologia che poi iniziavano sempre come corso di laurea dentro una facoltà fino a quando poi non si diventava facoltà attraverso tutta la procedura e erano partiti a Roma era partita Padova poi partivano Torino erano partiti Bologna non partiva nel 91 poi finalmente riuscivamo a farmi partire ma credo che un grosso merito sia stato di quelli che io chiamo noi ricercatori perché alla considerazione scusate gli psicologi li fanno gli altri voi dite che ci sono troppi già quelli che fanno gli altri ma questi verranno a lavorare qua nei nostri servizi e verranno con una formazione che non è quella bolognese è quella romana non credo quella quella padovana perché però potrebbe proprio essere così e quindi bene allora anche lì un piccolo contributo l'ho dato che mi è poi servito quando prima di andare in pensione sono riuscito a far approvare a Modena e Reggio Emilia l'apertura di un corso di laurea in Inter Ateneo con Parma perché Parma aveva già un corso di laurea in psicologia che poi si chiamano corsi di studio adesso ma siccome gli psicologi litigavano con i neuroscienziati il lettore papale papale disse o smettete di litigare o io chiudo il corso e lo chiuse allora mancava in Emilia Romagna ce n'era solo uno all'Università di Bologna con cinque magistrali e lì credo di aver dato un grosso contributo a convincere prima il rettore e poi dopo c'era tutta la procedura e anche il ministro ad aprire questo corso di studio allora la domanda era che cosa implica implica che ci si ritrova in certe situazioni per cui hai degli obiettivi sei convinto di quello che deve essere fatto che è fra virgolette giusto farlo e quindi si va avanti e se si riesce e se si ha fortuna perché serve anche avere della fortuna si riesce a raggiungere l'obiettivo il corso di laurea in scienza della formazione alla Bologna era è nato in questo modo si poteva per legge avere solo un corso di laurea in scienza della formazione per regione c'era a Bologna quindi però non so per quali marchigieni si era riusciti io non c'era ancora sono stato chiamato a Modena e Reggio Emilia nel 2002 e vengo da Trento era Trento io sono andato nel 1994 ho vinto che allora le cattedre erano si vinceva proprio la cattedra si era titolari di cattedra adesso non esiste più la titolarità di cattedra erano quindi concorsi nazionali allora l'idea di farla era di staccarsi di non essere dipendenti da Bologna questa è l'idea di chi reggeva allora l'ateneo del rettore e di chi gestiva tutti questi aspetti nell'ateneo modenese reggiano veni contattato per chiedere se ero disposto a venire a Reggio per mettere in piedi questa cosa cioè la facoltà e abbiamo lavorato ero nella commissione oltre al prorettore era allora l'unico ordinario gli altri erano c'era ancora il passaggio che prima di essere ordinario dovevano passare i famosi tre anni comunque abbiamo lavorato e l'abbiamo fatta così come dopo credo di era ma ci sono delle cose che vengono di per sé cioè non si fa niente poi di speciale cosa implica implica che fornisci in un ateneo che è abbastanza soprattutto nella sede reggiana l'ateneo madenese è un ateneo che conta molti anni ma la sede reggiana è sempre stata una sede è sempre stata nasce quando alla fine degli anni 90 e quindi dare un contributo per potenziarla per fare in modo che ci fossero facoltà che non c'erano prima era un obiettivo che mi sembrava che dovesse essere perseguito per cui andava andava bene spenderci del tempo delle energie e quant'altro senti Dino il nostro podcast si chiama La ricerca dell'anima e quindi tutti gli ospiti che ci vengono a trovare rispondono ad una stessa domanda e cioè che cos'è per te l'anima se è qualcosa la risposta iniziale è bella domanda non è facile rispondere perché quando domande come queste potrei formulare un'altra che cos'è la felicità cioè ci sono domande che non sono facili non hanno facili risposte l'anima per come la ovviamente ho sentito che fate questa domanda ci ho pensato ci ho riflettuto e come dire una risposta proprio bella sintetica precisa assertiva non ce l'ho io penso che l'anima sia in qualche modo mi viene da pensarla come qualcosa che è legato ai comportamenti delle persone mi viene da tradurlo al maschile che adesso non so se funziona quindi come animo ed è soprattutto come dire caratterizzata da aspetti che riguardano le facoltà intellettive che riguardano come dire diciamo tutto quello che riguarda la mente di un individuo ma riguardano anche i comportamenti pratici quello che uno mette in atto che fa per cui si può pensare che ci sono delle persone che hanno un animo gentile che potrebbe essere hanno un'anima gentile che hanno che sono come dire in qualche modo che hanno in qualche modo sono buoni che sono altruisti che sono persone che mettono in atto tutta una serie di comportamenti legati al sé della persona cioè a quello che uno pensa di essere quindi in qualche modo ho anche pensato si potrebbe ragionarci mi piacerebbe poi parlarne trovarsi magari non in un podcast perché capire se la struttura del sé che è strettamente connessa all'identità di un soggetto io sono io non sono non sono non sono nessun altro sono io con le mie specificità e le mie differenze rispetto agli altri perché in questo modo mi posso in qualche modo definire in funzione di queste variabili quindi capire se il concetto di anima riguarda il sé di un soggetto e le variabili che lo caratterizzano in termini ovviamente identitari non lo so è una domanda che dalla quale hanno ancora dato risposta certo io credo che rispetto se la mettiamo se la consideriamo in quest'ottica nell'ottica del sé io credo che possano rientrarci dentro tutte le tutte le immagini che le diverse persone hanno dell'anima che può essere vista ovviamente se io non ho seguito tutti i vostri podcast ma me li vado a vedere perché è interessante capire che definizione viene data da chi ha visioni della realtà del mondo quindi una visione del mondo e delle cose diversa o specifica non lo so se ho risposto in qualche modo è un'idea ma mi interessa lavorarci certo l'anima è legata anche a un aspetto a cui voi tenete molto che è quello della spiritualità allora la spiritualità non va legata al fatto se ho peccato o non ho peccato perché io ho provato a fare delle volte delle domande in questa direzione ma indipendentemente da voi era quando si dice ma cos'è per te lo spirito di una persona allora uno molto credente ti risponde beh lo spirito è non fare peccati non non trascrittire c'è l'aspetto quindi dell'etica che 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 non riguarda l'etica per esempio riterna l'etica la morale io le metterei più dentro a quella che è l'immagine di sé e come uno intende agire fare essere nel con se stesso e nel rapporto con gli altri non lo so ci sono molte visioni però questo del sé dell'identità dell'immagine di sé fra i tanti perché sul sé c'è una letteratura in psicologia sociale molto vasta molto ampia di grande tenuta però forse si potrebbe anche andare a vedere se nel sé ecologico da qualche parte di qualche tipo di costrutto teorico sul sé può rientrare o può essere questi costrutti possono contribuire ad andare a confermare che si può anche intendere l'anima in questa direzione grazie grazie Dino e grazie per essere stato qui con noi e come ti dicevo anzi quando vorrai tornare a trovarci siamo ben felici di saremo ben felici di riaverti sono io che vi ringrazio moltissimo dell'opportunità che mi avete dato e della possibilità di fare un'esperienza perché chiudo dicendo che io se posso dirlo negli anni 70 c'erano gli inviti in televisione sulla prima rete la domenica pomeriggio con ascolti eccetera e ci sono andato diverse volte poi ho abbandonato quell'idea e in genere ve l'ho già detto prima io sono mi ritengo come dire più adatto e anche fra virgolette più capace a fare altre cose che non a stare però vi ringrazio molto perché mi avete consentito di riprendere io di Potters finora nella mia vita l'aveva fatto solo un altro e invece penso che valga la pena appunto sarà inutile sostenere che bisogna fare esperienze rompere schemi cercare di cambiare e poi dopo non farli mai quindi sono io che davvero vi ringrazio moltissimo spero di non aver deluso e di essere stato le vostre attese e di aver dato un piccolo contributo anch'io non so a cosa perché parlare di sé e l'autoreferenzialità tutto sommato non so quanto sia valida e importante assolutamente è stato un onore non hai parlato solo di sé o di te ma hai aperto veramente molte porte quindi grazie e alla prossima grazie anche a voi Gianpaolo produrre un cambiamento questo secondo me potrebbe essere la parola chiave di questo incontro con Dino no? sì produrre un cambiamento assolutamente al confine tra l'individuale e il sociale e poi ce n'è anche un'altra perché a me piace che oltre a portare spunti e spunti di introspezione questo podcast porta anche delle storie di persone che hanno speso la vita a dedicarsi con dedizione a quello da cui venivano convocati all'anima ora il professor Giovannini ha posto un tema molto sottovoce come è tipico suo che è quello del fatto che noi in Italia non siamo buoni custodi della memoria del patrimonio delle storie delle persone molto spesso come lui diceva i professori escono dall'università e vengono tolti anche dal sito web ma noi lo facciamo un po' collettivamente altre nazioni hanno una capacità molto migliore di trattenere come un patrimonio la storia delle persone la storia culturale delle persone quindi sì sicuramente abbiamo parlato oggi di produrre un cambiamento forse abbiamo anche parlato del continuare ad attingere e nutrirsi delle capacità della storia della ricchezza dell'anima di chi ha lavorato altrimenti rischiamo sempre di partire dal punto zero è un po' come andare all'elementare e partire sempre da là invece possiamo non partire sempre da là se ci facciamo forti di chi c'è stato prima di noi ha studiato ha lavorato e anziché mandare al maschio i libri magari li leggiamo li cerchiamo e tenacemente proviamo a crescere bene e allora io ti mando un grande abbraccio e ti do l'appuntamento alla prossima tappa e io ci sarò ciao Gianpaolo ciao Fabio e un saluto a tutti voi che ci avete seguito fino al termine di questo incontro con una persona davvero speciale e di grande esperienza come Dino di quelle persone che lasciano proprio un segno nel cuore e mi raccomando mettete un bel like commentate iscrivetevi abbonatevi e spargete la voce alla prossima ciao alla ricerca dell'anima domande risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti e alieni esperti di e con Fabio Giuha e Gianpaolo del Bianco